Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi vi mostrerò come fare questo buonissimo pan di spagna con il Bimbi o Thermomix TM5. Per chi non avesse il Bimbi può tranquillamente usare frustino elettrico usando gli stessi ingredienti. Chiaramente assicuratevi che il composto risulti ben spumoso. Vi lascio il tutorial per le dosi e il procedimento. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti. 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 Ciao a tutti.